Nella cultura popolare è comune riferirsi a persone defunte come ad angeli in paradiso. Per molti significa semplicemente che le persone decedute sono con Dio, dove vivono gli angeli. A volte, tuttavia, questo pensiero confortante diventa più concreto e alcuni credono che gli esseri umani diventino veramente degli angeli dopo la morte. È vero? Un essere umano può cambiare la propria natura? La risposta breve è certamente corretta e no, non può. Non esiste, infatti, la possibilità che un essere umano diventi un angelo. Quando moriamo, la nostra anima viene separata momentaneamente dal corpo, ma verrà riunita ad esso alla fine dei tempi. È quanto proclamiamo nel credo ogni domenica, quando affermiamo credo nella resurrezione dei morti. Però esiste anche una risposta più lunga e articolata che ci dice, in un certo senso, che sì, noi saremo come gli angeli. E, per certi aspetti, anche di più. Non saltate però a conclusioni affrettate. Mettetevi comodi e seguitemi fino alla fine in questo affascinante ragionamento frutto della sapienza cristiana e del genio di Dom Anche Fonier. Mi raccomando, non perdetevi questa puntata e ricordatevi di mettere un mi piace e di condividerla con i vostri contatti. Buongiorno, mi chiamo Samaele Maniscalco. Benvenuti nel canale, gli angeli sono con noi. Bentrovati, cari amici, a questa nuova puntata. Prima di iniziare, tre brevi avvisi. 1. Se avete delle intenzioni di preghiera, ricordate che ogni venerdì facciamo celebrare una Santa Messa. Aggiungetele cliccando sul link che trovate in descrizione. 2. Per condividere più rapidamente i nostri video, come questo di oggi, esiste da un po' di tempo anche un gruppo WhatsApp. Potete cercarlo con le parole Gli Angeli Sono Con Noi oppure richiedendomi nei commenti il link per raggiungerlo direttamente. 3. Molto importante. Non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Dunque, il tema di oggi, scaturito anche questa volta da una conversazione con uno di voi, è di quelli avvincenti. 4. L'essere umano, dopo la morte, può trasformarsi in un angelo? Può diventare un essere puramente spirituale? Questa domanda è molto comune e, a mio parere, mostra due cose. 5. Da una parte, molte persone desiderano fortemente sentirsi vicini a Dio e al mondo spirituale, e questo di per sé è una cosa buona. 6. Dall'altra parte, però, evidenzia come alcune credenze non cristiane cerchino di convincere le persone che l'essere umano, in quanto composto di spirito e materia, sia imperfetto, come se Dio avesse sbagliato quando ci ha creati. Ovviamente non può essere così, si tratta di una concezione errata. 7. Perciò la domanda iniziale è molto pertinente e la risposta che daremo ci permetterà di aprire un ulteriore espiraio su cosa debba attendersi chi muore in uno stato di amicizia con Dio. Per farlo, utilizzerò nuovamente l'opera Gli Angeli di Don Fonier, un vero capolavoro, tradotto in italiano pochi anni fa dalle edizioni FEDF. Che cosa ci dice questo abbate benedettino amante del pensiero di Sant'Ommaso d'Aquino? In parte, una cosa che già sapete, e cioè che alla nostra morte chi avrà meritato la vita eterna potrà aspirare a prendere il posto degli spiriti decaduti e colmare i vuoti prodotti dall'apostasia degli angeli ribelli. Però questa elevazione, fermo restando che la nostra natura umana rimarrà sempre quella che è, non ci renderà appena simili agli angeli, ma uguali per grazia. Leggiamo le parole di Don Fonier perché sono un vero balsamo per l'anima. E cito Secondo tutte le leggi della vita spirituale, è evidente che gli angeli devono svolgere, in un modo o nell'altro, un ruolo importante nella beatitudine eterna dell'uomo. Vedere gli angeli, contemplarli, deve necessariamente costituire una fonte di gioia più grande di tutti i godimenti che il mondo visibile può offrirgli. È un desiderio molto legittimo del cuore dell'uomo e i santi hanno spesso dato libero sfogo all'espressione di questo ardente desiderio. Ecco il primo punto. Voler vivere insieme agli angeli è un desiderio legittimo, anche perché essi rivestiranno, in un modo o nell'altro, un ruolo importante nella beatitudine eterna degli eletti. Ora, so bene qual è la possibile obiezione a questo ragionamento, e cioè che in paradiso il nostro unico possesso sarà Dio e nient'altro. Però, prosegue l'abbate Benedettino, non dobbiamo mai perdere di vista il seguente principio, e cioè il possesso della bontà suprema, Dio conosciuto in sé stesso, non distrugge in alcun modo l'inclinazione verso la bontà creata, ma al contrario la eleva. Vedere Dio faccia a faccia produce nell'intelligenza dell'eletto una nuova capacità di vederlo nelle sue creature. E dove lo vediamo meglio, se non nel mondo degli angeli, i quali riflettono, come uno specchio perfetto, con un potere di irraggiamento, per così dire infinito, la gloria del Dio invisibile? Inoltre, continua nel suo ragionamento, attraverso la comunione con la grazia soprannaturale, l'uomo è alleato agli angeli attraverso i legami della carità, lungi dall'essere loro estraneo e loro concittadino. Ci sarà così, tra l'uomo e gli spiriti celesti, uno scambio d'amore molto reale. L'uomo, oltre a contemplare gli angeli in tutta la loro gloria, sarà in rapporto con loro quale cittadino del medesimo regno, quale figlio del medesimo padre. Questo santo commercio, che gli unirà gli spiriti celesti, sarà il livello supremo dell'amore creato. Non ci potrà essere amore più grande, se non l'unione dell'uomo con Dio stesso. Ed ecco il secondo punto. L'amore più grande sarà l'unione dell'uomo con Dio, come è ovvio, ma subito dopo, per grado di intensità, passatemi l'espressione, ci sarà quello che in cielo ci unirà agli angeli. Eppure c'è di più, perché questa associazione dell'uomo con gli angeli sarà molto più intima e profonda. Gli eletti della razza umana, scrive Don Fonier, non saranno semplicemente la frangia esterna del mondo degli spiriti, ma al contrario, stelle lucenti su ciascuno dei vari piani di quel mondo. Essi, secondo la tradizione cattolica, sono destinati a prendere il posto degli spiriti decaduti. Questa credenza modifica profondamente le relazioni dell'uomo con gli angeli e lo pone su di un piano di parità con questi potenti spiriti. E nell'ordine spirituale è davvero la più sorprendente di tutte le esaltazioni. Fermatevi un attimo e fate attenzione all'espressione appena usata. Gli eletti della razza umana si troveranno su un piano di parità con gli angeli. Vi domanderete, com'è possibile affermare ciò dal momento che la nostra natura rimarrà sempre quella che è? La risposta è contenuta chiaramente nelle parole del Signore quando, parlando della resurrezione dei giusti, dice Questa uguaglianza, commenta Don Fonier, significa più di una semplice somiglianza, una comunità di privilegi che fa degli uomini e dei spiriti eletti un'unica società. Questa uguaglianza è interamente basata sulla grazia. La natura umana rimarrà sempre quella che è, di gran lunga inferiore alla natura angelica, ma è sì grande la potenza della grazia che essa getta come un ponte sull'inuguaglianza delle nature e un eletto della razza umana può veramente diventare, a rigor di termini, l'uguale del più alto degli angeli e, di conseguenza, molto superiore agli altri angeli di rango inferiore. Non so se avete capito. Quello che abbiamo appena letto è straordinario per la chiarezza e la grandezza di quello che asserisce. Direi quasi che è sconvolgente. Qualcosa che solo la potenza del creatore può fare. C'è però un'ulteriore questione che, vi confesso, io non mi ero mai posto, e cioè che non siamo obbligati ad ammettere che tutti gli esseri umani salvati dalla grazia di Cristo siano destinati ad essere elevati tra le gerarchie angeliche. Il Caetano, il rigoroso teologo oppositore di Lutero, ritiene ad esempio che i bambini che muoiono salvati dalla grazia battesimale, ma senza alcun merito personale, rimarranno al di sotto dell'ordine degli angeli eletti. Saranno la porzione del genere umano restante al posto che l'è proprio, assomiglieranno agli angeli senza essere uguali a loro. Per contro, vi saranno esseri umani che, per le stesse leggi divine, saranno assolutamente superiori a qualsiasi ordine angelico. Tra queste creature, la Santa Madre di Dio è certamente la prima. Come spiegare queste affermazioni? Il principio dell'applicazione generale, scrive Don Fonier, è il seguente. La grazia è più elevata della natura. Anche più elevata della più elevata delle nature spirituali. E la sua estensione è più vasta del più vasto dei mondi. Nulla di più, nulla di meno. Ora, a cosa ci serve sapere tutte queste cose? Solo per mera curiosità? Non direi. Personalmente, tutte le volte che apprendo qualcosa di nuovo sulla grandezza e la vastità del creato e del suo creatore, il mio cuore si dilata e aspira con ancora più determinazione ad unirsi a Dio e, per mezzo di Lui, alle schiere angeliche. È come una barretta energetica. Perdonate il paragone non all'altezza, ma è per farmi capire da tutti. È come una barretta energetica che mi fornisce energie supplementari per superare con più slancio le difficoltà, le stanchezze, le incomprensioni della quotidianità. Per utilizzare un'espressione celeberima potremmo dire che là fuori c'è tutto un mondo ancora da scoprire. E tutta questa conoscenza, tutti questi tesori della santa religione cattolica sono lì che aspettano solo di essere riscoperti. Sono fonti di acqua limpida alle quali abbeverarsi nella calura di questa valle di lacrime, come recita la Salve Regina. E gli angeli buoni, già in questa vita, possono aiutarci a superare le asprezze del nostro esilio. Possono farlo, ad esempio, aumentando in noi il desiderio di conquistare la vita eterna, la felicità eterna, anche al prezzo delle maggiori rinunce. Ecco una delle finalità di questo canale, la cui missione principale, ve lo ricordo, è quella di conoscere sempre di più il mondo angelico, sapere come attirare l'azione degli spiriti celesti e allontanare quella del diavolo. Ma Don Fonier ci stupisce ulteriormente, con la sua arguzia, quando, commentando la prima lettera ai Corinzi, dove sta scritto «Non sapete che giudicheremo gli angeli?» quanto più le cose di questa vita. L'abbate commenta «L'apostolo, si riferisce a San Paolo, fa evidentemente allusione al grande giudizio della fine dei tempi. Il diritto di giudicare sarà dato ai Santi ed essi ne faranno impiego non solamente nei confronti di questo mondo, ma altresì nei confronti degli angeli decaduti. Questo potere di giudicare presuppone naturalmente non solamente uguaglianza, ma anche superiorità». E qui raggiungiamo la vetta delle dette. Non solo uguaglianza, ma persino superiorità. Questo è davvero incredibile. Incredibile. Ora conclude il nostro «L'eroismo, qualunque esso sia, che si trova tra i cristiani durante il loro pellegrinaggio sulla terra, dà loro il diritto ad una ricompensa che la parola trono esprime molto bene. Il vincitore, sta scritto nel libro dell'Apocalisse, lo farò sedere presso di me, sul mio trono, come io ho vinto e mi sono assiso presso il Padre mio, sul suo trono». Fine citazione. «Tutto questo è magnifico e ci fa pregustare e desiderare fortemente il momento in cui, se ne saremo stati degni, se avremo combattuto la nostra buona battaglia fino alla fine, entraremo a far parte dei cori angelici pur rimanendo con la nostra natura umana». Bene, dimmi nei commenti se questo argomento ti è piaciuto e se pensi che il canale «Gli angeli sono con noi» merito il tuo sostegno. «Se sì, ti invito a far parte del gruppo Apostoli dei Santi Angeli». L'iscrizione comporta dei benefici materiali che i membri ricevono a casa, come un certificato di appartenenza, stampe, medaglie e libri, e dei benefici spirituali, come diverse sante messe celebrate nel corso dell'anno, secondo le intenzioni di tutti i membri. Inoltre, le tue intenzioni di preghiera saranno portate nei principali santuari cattolici del mondo e in special modo quelli legati a San Michele e Arcangelo. Clicca sul link nel primo commento in evidenza. Ti si aprirà una pagina dove troverai informazioni utili per sapere come entrarvi. Sindora ti ringrazio se vorrai accettare questo mio invito. dell'ispo un'erpo che è un'erpo che è un'erpo che